Promozione e valorizzazione dell'entroterra della provincia veronese con un occhio di riguardo alle nostre tradizioni e anche alla buona scuola alberghiera di Verona. Questo è il significato dell'evento organizzato dall'Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitala alberghiera Angelo Berti con il patrocinio del Comune Scaligero. Ospiti d'eccezione i consoli di paesi come gli Stati Uniti, la Norvegia, il Perù, lo Zimbabwe, solo per citarne alcuni, che per merito del corpo docente e soprattutto degli studenti dell'Istituto Alberghiero Berti hanno potuto conoscere da vicino il bello e il buono non solo delle nostre tradizioni ma anche del nostro saper formare i professionisti del domani. Il fatto che ci sia l'Expo adesso a Milano è un'opportunità molto importante per tutti quelli che sono vicini e proprio perché il marchio italiano è un marchio legato al cibo e senza altro l'educazione, alla crescita dei giovani e il marchio Verone è anche molto importante perciò venire qui a noi stranieri ci aiuta a capire infatti come si fanno anche le cose quando si fanno bene perché i risultati ottimi prima o poi arrivano. Il fatto che l'Expo succeda in questa zona in un tempo di crisi direi universale ci dà anche l'opportunità di capire come quando noi tutto il mondo ci mettiamo assieme e riusciamo a fare delle cose proprio importanti. Grande la soddisfazione del dirigente scolastico e di tutto l'Istituto Berti per questo evento pensato, preparato, vissuto con grande professionalità. Sicuramente riuscire come scuola a mettere insieme un evento in vista di Expo che forse neanche altre istituzioni sono riuscite a fare finora richiamando qui una ventina di paesi, dei consoli generali, insomma per una modesta scuola alberghiera come la nostra credo che sia un dato estremamente importante. È la dimostrazione di quello che noi riusciamo a fare abbiamo vinto dei concorsi nazionali, riusciamo a creare degli eventi a livello nazionale qui nel Veneto, a Verona direttamente organizzati da noi. Come hanno preso i ragazzi questo evento? Come si sono preparati? Come stanno vivendo? Comunque come l'hanno vissuto? Hanno capito tutti che è un evento estremamente importante in cui come scuola giocavamo la nostra faccia e la nostra reputazione se ne sono occupati tutti a livello delle varie specializzazioni dall'accoglienza turistica hanno accolto questa mattina col sindaco Tosi tutti i nostri ospiti li accompagneranno durante tutta la giornata abbiamo poi la cucina e la sala che hanno il grosso del lavoro che oggi verrà svolto sulle loro spalle e tutti quanti hanno sviluppato cose particolari per degli ospiti molto molto particolari